Ad Aranova è stata costruita una squadra per puntare in alto agli ordini di Mr. Vigne, Rosso Blu Corrono e Sudano proiettati verso l'inizio di campionato in programma all'8 settembre. Diciamo che è stata costruita con criterio, perché già c'era lo zoccolo duro dell'altro anno, dove abbiamo intrapreso un ottimo fine campionato, perciò le basi ci sono. È stata rinforzata sicuramente con giocatori importanti di categoria, dove andremo a affrontare un campionato molto molto difficile, specialmente con il discorso degli under, che non ci sono più gli under, molte squadre si sono allestite in maniera importante, ma non abbiamo paura di nessuno. Credo in questa squadra, crediamo nei nostri obiettivi e poi partita su partita valuteremo dove possiamo arrivare. La Rosa pare tra le più competitive del girone A, ma di obiettivi non se ne parla. Ci sono tutti i presupposti per poter fare bene, per lavorare professionalmente, diciamo, perché noi a fine non siamo dei professionisti, ma il lavoro deve essere svolto a livello professionale, come diciamo. Perciò ci sono tutte le carte regola per far sì che tutto vada come deve andare.